E dopo aver praticamente iniziato i lavori qui a Spazio Mattino, sia in cucina che nel nostro laboratorio artistico con i nostri ospiti speciali per questa puntata speciale, lo è altrettanto il nostro esperto che solitamente noi lo abbiamo conosciuto per l'appunto come in ambito medico, psicologo, psicoterapeuta, criminologo ma oggi lo vedremo in veste di scrittore, quindi diamo la parola al nostro esperto. E proprio così mi siedo sullo sgabbellino nuovamente perché lui ormai è diventato praticamente un amico di Spazio Mattino e tra una prescrizione medica e l'altra, nel momento in cui lui si allontana dai suoi pazienti, dal suo studio va a rifugiarsi appunto nella scrittura e come lo fa? Scrivendo le novelle brevi siciliane. Quindi diamo il buongiorno al dottor Andrea Giostra, buongiorno. Grazie, grazie Giussi, buongiorno a te, a tutti i tuoi telespettatori e auguri per il cinquantesimo anniversario, la cinquantesima puntata insomma più che anniversario. Sì sì vabbè però non ti preoccupare, è di buon auspicio quello che hai detto, magari fra 50 anni, non ci sarò io a condurre ovviamente perché non penso di farcela, però comunque di buon auspicio, lo prendiamo come buon augurio. Dunque Andrea, quando tu praticamente sei lontano dal tuo studio medico, sei lontano dai tuoi pazienti, ti vai a rifugiare appunto nella scrittura, che tra l'altro è una grandissima passione che tu hai sempre avuto da piccolissimo, da adolescente, giusto? Sì, proprio da bambino perché sono stato per così dire forgiato da mia nonna, mia nonna paterna, che aveva questa passione diciamo di raccontarmi le sue favole, le sue storie, quindi io quando ero piccolo mi ricordo che lei diciamo si metteva accanto a me, oppure io scendevo perché abitavamo nella stessa palazzina nel centro storico di Montalè, perché è un paesino vicino a Palermo, e cominciava a raccontarmi appunto le sue storie che inventava proprio lì di Sanapianta, quindi che erano storie di principi, di cavalieri, di principesse, di donne innamorate, di streghe, eccetera, eccetera, e quindi diciamo mi ha iniziato a questo raccontare, insomma questa narrazione un po' fiabesca e molto attraente per un bambino quale ero io allora. E quindi praticamente questi racconti, grazie alla tua nonna e a questi racconti, hai deciso poi di continuare a coltivare questa tua passione, quindi in concomitanza con la tua prima professione hai iniziato anche a bazzicare sulla scrittura, sull'arte, insomma della pittura e quant'altro, perché ricordiamoci che tu sei un appassionato di arte e culture che spesso hai progettato e diretto alcune mostre molto importanti e grazie appunto alle tue capacità organizzative hai anche riconosciuto, cioè ti sono stati riconosciuti, insomma ti è stato riconosciuto un talento, ti sono stati assegnati dei premi e dei riconoscimenti molto importanti. Tra questi, caro Andrea, perché io mi sono informata bene, hai anche ricevuto un riconoscimento importante che è la targa Milano International all'interno del premio letterario Milano International, proprio in occasione dell'aver raccolto queste novelle brevi siciliane. Vogliamo parlare di questi riconoscimenti importanti, Andrea? Ma quello è stato il primo in assoluto ed è stato anche inaspettato perché è stato un premio che mi è stato dato senza che io conoscessi addirittura questo concorso perché alcuni membri di questa commissione avevano letto queste novelle che sono leggibili online e hanno deciso di premiarmi, di darmi un premio e quindi quando mi chiamò il direttore insomma del premio, io dissi ma guardi forse ho sbagliato numero perché io non ho partecipato a nessun concorso letterario, quindi no no, mi ha raccontato come era avvenuta la cosa e quindi poi sono andato a Milano a ritirare questo premio, ma da lì poi ce ne sono stati diciamo tanti altri riconoscimenti su quella che io vedo comunque un gioco, una cosa che mi diverte, non è che non mi sento uno scrittore ma semplicemente uno che si diretta a scrivere e ha questa passione perché l'ho sempre fatto fin da bambino insomma e quindi mi fa piacere che poi queste cose vengano riconosciute, piacciono insomma e divertono soprattutto perché sono delle piccole storie che si leggono in due o tre minuti al massimo insomma. Ma soprattutto per portare avanti appunto le nostre origini, le nostre tradizioni della nostra bella terra, quindi è un raccontare, un ukuntu in dialetto siciliano che per non andare insomma a perdere questa bella tradizione. Sì, sì, questo sì perché poi di fatto queste storie che poi sono nelle prime tre edizioni, perché siamo arrivati adesso alla quarta edizione, nelle prime tre edizioni, nelle prime tre edizioni erano quattordici piccole storie, poi lo scorso anno ho deciso di fare una quarta edizione di chiedere a alcuni editori che mi avevano chiesto nel passato di pubblicarlo, questo libro appunto di pubblicarlo e quindi adesso sono 18 piccole storie, quattro scritte durante il periodo del lockdown l'anno scorso, questo libretto è stato pubblicato adesso da tre case editrici in contemporanea. Vediamo, scusami se ti interrompo Andrea, vediamo dalla regia infatti alcune foto delle copertine di queste, ecco per esempio questa fu la prima che uscì Andrea? Questa in ordine di tempo è mi pare la terza, che la prima è stata una casa editrice di Roma che si chiama la Macinonlus, dopo qualche mese circa un'altra casa editrice di Parma che si chiama Rupe Mutevole e questa è la terza che si chiama Biblios che è una casa editrice di Bari ma che ha anche una sede in Veneto a Verona mi pare. E poi ce ne sono altre tre che pubblicheranno questo libro nei prossimi mesi e poi un'altra casa editrice è straniera. Questa che vediamo adesso invece Andrea? Questa è quella di Roma, l'editore è Piero Casoli e si chiama La Macina Onlus. Il dipinto è un dipinto che è stato fatto proprio ad hoc per queste novelle perché queste novelle hanno anche così suscitato l'ispirazione, chiamiamolo così, da alcuni artisti. Questa è un'artista molto nota, una pop artist italiana ma molto nota in tutto il mondo, molto conosciuta per la sua tecnica, per le sue composizioni e quindi ha dedicato addirittura due sue opere a queste novelle, insomma questa si chiama appunto Novelle Brevi Sicilie e lei si chiama Francesca Falli, molto conosciuta. E poi abbiamo anche, se non sbaglio, un'altra foto della copertina delle novelle appunto Brevi Siciliane che adesso la nostra regia, non so se già, eccola qui, è proprio questa, giusto Andrea? Sì, questa è un'altra casa editrice ma la casa editrice è di Roma e questa è di Parma, hanno scelto la stessa opera di Francesca Falli per la copertina, sì sì. Andrea, dove possiamo trovare le novelle brevi siciliane? Allora, le prime tre edizioni si trovano facilmente online e sono scaricabili, non si possono scaricare il pdf o si può leggere sul mio blog. Le nuove edizioni invece si trovano in tutti i portali, c'è la quarta edizione, intendo, quella pubblicata da questa casa editrice che ha quattro nuovi racconti, si possono trovare online, non lo so, nei portali che sono da Feltrinelli, piuttosto che Amazon, oppure nei link delle case editrici che dicevo prima. E comunque basta mettere novelle brevi Sicilia su Google e si trovano immediatamente, con molta facilità. Andrea, dimmi la verità, ma questi racconti, queste raccolte appunto di racconti sui tuoi libri, le novelle brevi siciliane, sono fatti realmente vissuti da te, insomma dalla tua famiglia, dalla tua nonna, oppure spesso ci hai messo anche un po' della tua creatività, della tua fantasia? Allora, intanto queste storie sono delle piccole storie, perché poi sono proprio, si leggono veramente in due o tre minuti, una paginetta, sono proprio delle micro storie, che io scrissi tra il 2008 e il 2010 con un vecchio telefono, che era allora il Nokia E90, che era il primo telefono tipo che si apriva... Lo ricordo, sì. Così c'era la tastiera. E insomma io ero per lavoro, andavo in giro, aspettavo qualcuno prima di iniziare una riunione o durante anche una conferenza, insomma in occasioni così, e scrivevo queste piccole scene che poi mandavo con gli MMS, perché allora non c'era WhatsApp, non c'era Facebook, gli mandavo a quattro o cinque amici miei che si divertivano e mi dicevano amaturi devi pubblicare, devi pubblicare. Poi casualmente dopo quasi 15 anni, quindi qualche anno fa, li ho ritrovati perché cercavo un numero di telefono di un mio amico e mi sono imbattuto in queste cose, ho visto la prima, ho visto la seconda, poi insomma ne ho recuperate al 14, poi mi sono ricordato che ne avevo scritte molte di più, e li ho messi online e da lì poi insomma sono... E da lì insomma tutto quello che è successo dopo. Sì, tutti i fatti che io ho visto, quindi o che hanno, che io sono stato protagonista, o che sono stato protagonista, nel senso che li vedevo, li osservavo e quindi li descrivevo in questi piccoli micro racconti per così dire, quindi sono tutti fatti veri nei quali ogni siciliano, per quello che mi dicono, perché adesso i lettori sono veramente diverse decine di migliaia, addirittura forse più di 150 mila, insomma, perché sono delle scene che ognuno di noi che vive in questa terra ritrova nei posti che si frequentano normalmente, al mercato, per la strada, o nei posti di ritrovo. Andrea ovviamente se tu ci tieni, insomma, se tu sei d'accordo naturalmente, io proporrei al nostro regista Franco Orcoraci, che è l'editore di Telespazio, di mandare in onda appunto delle pillolette di culture, di tradizione della nostra bella terra attraverso appunto le tue novelle, che sono state già lette anche in passato da attori molto noti, ma soprattutto attori siciliani, perché comunque devi conoscere anche un minimo il siciliano per poterlo leggere correttamente. Io adesso vorrei leggerne una, intanto sei d'accordo? Ti piace questa idea del palinsesto? Assoluto che sì, ma certo che sì, anzi, ne sono lusingato e ti ringrazio. Sono proprio delle pillolette che è giusto che ci siano all'interno di un palinsesto di una televisione come la nostra siciliana. Grazie. Allora Andrea, guarda, io non so se sarò all'altezza ovviamente nella lettura, anche perché il dialetto che tu chiaramente hai scritto è più un dialetto delle tue parti, palermitano, io invece vengo da Messina, quindi il dialetto è un pochettino diverso, però ci tento ovviamente. Intanto questa novella si chiama Gli auguri di mia nonna ottantenne, che scrive al nipote e gli dice Caro nipotino mio, adesso che hai fatto 18 anni e sei diventato grande, fai il bravo ragazzo, sii responsabile e maturo, rifletti bene prima di fare qualsiasi cosa e non ti avventurare mai prima di aver riflettuto sui rischi e sulle conseguenze di quello che dovrai fare. Non frequentare cattivi compagni e compagne e stai solo con ragazzi e ragazze che possono darti qualcosa e possono farti stare bene, punta al successo, ai grandi ed ambiziosi traguardi che possano arricchire la tua vita e il tuo tempo. E aggiunge la nonna Avrei voluto augurarti tutto questo, caro nipotino, invece io che ho 80 anni dico basta con tutte queste minchiate, scusate il francesismo di prima mattina, quello che ti dico è invece questo goditi la vita più che puoi, scopati tutte le ragazze che ti piacciono, picchisi un biedro picciuotto e lo puoi fare, spero di non aver tradito il siciliano padelmitano, gira il mondo e viaggia tanto finché non ti stanchi e quando sarai stanco di goderti la vita e di viaggiare trovati una donna ricca e beggia assai e falla innamorare di farci perdire la testa e quando è innamorata pazza ma rititilla subito a cussì non dovrai lavorare e vivrai nel benessere e nella ricchezza con i soldi di lei poi falle fare tanti fighi così da vecchio non sarai solo e avrai cucumate cutia insomma, goditi questa vita che è breve e vola via velocemente senza kamankutin adduni pensa solo a prenderti cura della tua famiglia delle persone che ami di te e di tutto il resto futtitini hai capito caro nipote mio? questo devi fare così quando diventerai vecchio come sugnu iu ora non rimpiangerai nulla della vita da giovane e avrai fatto tutto quello che hai voluto e ti sarai goduto la vita picchi non arresta niente una volta kamuremu e nell'automunnu non ne portiamo nienti hai capito? fai come ti dico io anzi scusate fai come ti dici tua nonna perchè io è messinese fai come ti dici tua nonna che hai passato di tutti con l'ora in tua vita e ne sapi assai di cose e sapi come funziona l'uomo il terreno ora che ti dici tutti questi cose schietti schietti tu puoi sorrire buon compleanno nipoteggio mio e come dici tua nonna ora prendiamo un bel caffè bravissima ovviamente il messinese è diverso è io anziché io ma va benissimo però cambiano delle cosine Andrea che dirti io sono entusiasta di questa cosa che ovviamente proporrò assolutamente al nostro editore che è Franco Arcoraci che tra l'altro tu conosci bene vi siete già comunque confrontati su altre cose e quindi a presto qui su Telespazio avremo appunto le pillolette le novelle brevi siciliane del nostro Andrea Giostra grazie grazie mille grazie grazie mille Andrea grazie e ti auguriamo sempre buon lavoro sia della tua primissima professione che quella del medico e lo ricordiamo sempre e ci sei stato di grande aiuto e ci sei ad aiuto ancora oggi con i vari contributi insomma che ci dai durante la nostra rubrica dell'esperto e poi ovviamente un buon lavoro anche per la tua grande passione che è quella della scrittura grazie a voi e buona continuazione e di nuovo auguri grazie mille alla prossima ciao Andrea grazie a te grazie mille grazie a te